Sono circa un migliaio, un mille e cento ne contiamo noi. Ora, questo numero rappresenta un patrimonio per la nostra cultura. Più editori ci sono in un determinato contesto sociale, maggiore pluralismo è garantito alla libertà di espressione. Anche qua, volendo rifarci alla natura, il concetto di biodiversità, è esattamente questo. Avere tanti editori garantisce a chiunque di poter, a chiunque, a un maggior numero possibile di persone di poter esprimere il proprio punto di vista e trovarlo poi pubblicato e diffondere questo punto di vista. Pensate cosa sarebbe un paese con solamente tre case editrici. E proprio questa diversità è garantita dalle piccole e medie case editrici italiane che in Italia rappresentano una realtà fondamentale, importantissima e che noi cerchiamo di tutelare o qualche modo di valorizzare attraverso la fiera che organizziamo a dicembre ogni anno a Roma. Qual è il rapporto tra prezzo e piccole case editrici? È chiaramente un discorso concorrenziale, lo capite facilmente. Si vuole evitare che nell'ambito editoriale si possa applicare una logica concorrenziale e spasmodica tale che il più grande massacri il più piccolo fino a farlo scomparire. Quello che diceva prima Stefano a proposito della Sibel Bonnard è un esempio di questo. Piccola case editrice prestigiosa, che tra l'altro pubblica di editoria, che scompare. Ecco, nel nostro contesto sociale, in occidente, il pluralismo voi sapete che è considerato un valore e quindi in nome di questo valore si rinuncia anche all'altro punto di riferimento che noi abbiamo nel nostro sistema economico che è quello della concorrenza. Secondo spunto che probabilmente vi farà meno piacere ascoltare noi abbiamo detto che non sappiamo cosa c'è tra autore e prodotto allora a mio avviso questa mancanza di consapevolezza di quello che c'è in mezzo genera un problema enorme genera la mancanza di attribuzione di valore a tutto quello che c'è in mezzo non si conosce, non si percepisce qual è la cattiva del valore chi è che lavora, che cosa falla in mezzo perché quel libro ha quel valore e questo è il mio modo di vedere, è il motivo per il quale da qualche anno, quando sarete all'università voi non avete nessun problema a fotocopiare i vostri libri così come oggi non avete nessun problema a scaricare la vostra musica da internet mentre invece sicuramente mi fareste molto problemi andare a rubare un motorino per strada o a levare il portafoglio della tasca di qualcuno questo chiaramente è responsabilità vostra fino a un certo punto perché se chi vi sta intorno non vi dà la società non vi dà la consapevolezza di quello che è il valore è chiaro che manca la percezione dell'illecito ecco, capendo quali sono i lavori le professionalità l'impegno di chi sta in mezzo tra l'autore e il libro io sono certo che voi acquisirete maggiore consapevolezza di quello che è il lavoro dell'editore e il valore del libro stesso non mi illudo che non fotograferete il libro all'università però secondo me lo farete con maggiore senso di responsabilità quello che fate voglio fare un esempio per essere più chiaro alcuni di voi collaborano a questo progetto scrivendo delle brevi storie che poi verranno pubblicate io mi chiedo cosa pensereste se qualcuno lucrasse su queste opere che sono state prodotte da voi cioè se qualcuno guadagnasse dei soldi sulle vostre opere dell'ingegno ecco, è esattamente quello che succede quando qualcuno scarica in maniera illecita musica da internet per fare un esempio pensateci come pensate ho un ultimo aspetto interessante secondo me ho qua bisogno del microfono allora questo è il barabro di cui vi parlavo in Italia si legge poco noi siamo penultimi in Europa per lettura nel nostro paese solamente 44 italiani su 100 hanno letto almeno un libro negli ultimi nell'ultimo anno la cosa cambia chiaramente a secondo dell'età in età giovane si legge molto e poi si comincia a leggere sempre di meno voi state tra i 17 e i 19 anni quindi avete un tasso di lettura molto alto ora i vostri insegnanti i vostri genitori sicuramente vi hanno detto che leggere è importante perché la cultura è una cosa importante noi abbiamo un approccio personalmente devo avere un approccio un po' differente e voglio provarvi a dire perché è importante con dei numeri considerate che io non devo spiegarlo solo a voi ma molto spesso devo spiegarlo anche alle istituzioni con le quali dialoghiamo quotidianamente non certo l'assessore Croppi ma altre sì in Italia per la promozione della lettura si fa molto poco ne sa qualcosa la dottoressa Cristiano che si trova a dover lavorare sulla promozione senza avere risorse economiche noi quindi dialoghiamo con le istituzioni e gli diciamo che devono investire di più sulla promozione della lettura cioè bisogna aiutare gli italiani a leggere di più dopodiché a un certo punto vedendoci conto che non ci ascoltavano abbiamo provato a fare un passo indietro abbiamo detto proviamo a spiegargli perché bisogna leggere di più perché forse non è così scontato abbiamo chiesto a degli economisti di fare un'analisi del rapporto tra lettura e sviluppo economico del paese perché poi quando si parla di soldi e di sviluppo economico ci si sente sempre un po' di più sapete cosa è venuto fuori? è venuto fuori una cosa banale che laddove si legge di più lo sviluppo economico è più alto ma attenzione il rapporto non è si legge di più perché il paese è più ricco gli economisti hanno messo un rapporto diretto la lettura con lo sviluppo cioè laddove si legge di più lo sviluppo è più veloce ed è stato calcolato che per esempio se la Calabria negli anni 70 avesse avuto i tassi di lettura della Liguria oggi avrebbe il 50% in più di PIL di sviluppo e di benessere questo è il perché e c'è anche un dato che vi riguarda molto da vicino e che riguarda il rapporto che c'è tra studenti e libri attenzione neanche lettura in questo caso la lettura in diretta e libri c'è una statistica nella Banca d'Italia che è una delle più prestigiose istituzioni economiche che fa anche statistiche su queste cose che mette in relazione il rendimento scolastico con i libri che si hanno a casa quindi con la biblioteca scolastica la semplice disponibilità a casa di 20 volumi di una biblioteca composta di 20 volumi rileva un rendimento scolastico del 10% superiore so se è chiaro il concetto vuol dire che con 20 libri in più a casa statisticamente chiaramente parlando un'insufficienza di 5,5 diventa 6 bisogna spiegarlo ai papà e alle mamme bisogna spiegarlo a papà e alle mamme come dice il professor De Mauro bisogna spiegarlo anche ai dirigenti scolastici per quanto riguarda le biblioteche scolastiche perché chiaramente laddove mancassero a casa la biblioteca scolastica potrebbe sopperire a questa mancanza però ripeto voi in questo caso siete voi a decidere voi siete lì su in questo momento da oggi comincerete a leggere sempre di meno e a leggere di meno vorrà dire qualcosa nel vostro futuro tenetelo presente grazie grazie